Io non sono un numero C'è un paio di scarpette rosse, un numero 24 quasi 9 Sulla sua linterna si vede ancora la marca di fabbrica Schultz Monaco C'è un paio di scarpette rosse e c'è un mucchio di scarpette infantili a Buchenwald Erano di un bambino di 3 anni e mezzo Chissà di che colore erano gli occhi, bruciati nei forni Ma il suo pianto lo possiamo immaginare Si sa come piangono i bambini Anche i suoi piedini li possiamo immaginare Scarpa numero 24 per l'eternità Perché i piedini dei bambini morti non crescono C'è un paio di scarpette rosse e un verde, quasi 9 Perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole Solo quando nel mondo a tutti gli uomini sarà riconosciuta la dignità umana Solo allora potrete dimenticarci Perché quel filo ospedato non è ancora del tutto tagliato? Alla prossima Grazie a tutti.